Gli antichi romani ci aiutano a dormire. Lo vediamo nel materasso Buongiorno della Sano Dormi qui da Biaggi Relax. Il materasso Buongiorno è stato progettato e realizzato secondo una struttura a forma di archi romani. La particolarità dell'arco era quella di poter distribuire meglio il peso. Inserendolo all'interno del materasso ci permette di gestire meglio il peso della persona. Sarà ovviamente molto più confortevole. Lo spazio che si trova dentro all'arco creerà un effetto mantice. Non tutti sanno che durante la notte, durante la nostra fase REM, ci muoviamo dalle 20 alle 30 volte. Cosa succede? Che muovendosi, passando molta aria, si creerà un effetto deumodificante. Quindi abbiamo una struttura del materasso con una schiuma a doppi archi romani e 6 cm di memory marine. Effetto massaggiante, altamente traspirante. Adatto alle calde stagioni. Attenzione, se vogliamo un effetto meno morbido, possiamo semplicemente girare sotto sopra il materasso e usare la schiuma ortopedica. Abbiamo inserito al materasso un tessuto con due particolarità. Uno, fatto con aloe vera, quindi antibatterico. E due, la scritta silver, perché è antimagnetico. Purtroppo, nelle nostre case, siamo pieni di dispositivi elettronici, che producono onde elettromagnetiche. Quindi questo tessuto ci aiuta a sbaltirlo un pochino di più.